Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video, oggi siamo qui per le pacelle di Brighton Manchester United definita 2 a 1 per i padroni di casa, una sconfitta amara, una sconfitta bruttissima, una sconfitta che io ancora devo digerire molto, perché sono veramente ancora tanto tanto arrabbiato da questa sconfitta perché ovviamente avrei preferito il pareggio avrei preferito il pareggio ma continuiamo costantemente a prendere gol alla fine come degli imbecilli prima di iniziare vi invito ad iscrivervi al canale, attivare la campanella ma soprattutto lasciate like a questo video per supportare il canale ho letto il consiglio di un ragazzo nell'ultimo video delle pacelle, quelle contro il Fulham dove mi ha detto di inserire qualche immagine per far scorrere meglio il video io sarei anche favorevole, cioè è una cosa che a me piace molto perché almeno il video diventa anche un po' più facile da digerire e da guardare il problema ragazzi che io ho veramente pochissimo tempo, due canali youtube da gestire o un profilo su tiktok da gestire e iniziare ad editare pure le pacelle, veramente per me in questo momento è impossibile in futuro non vi nego che ci sto lavorando per capire come fare, però per ora è poco probabile detto ciò io direi di partire sempre dal solito, dal portiere, Onana voto 6 personalmente io non lo reputo colpevole né del primo né soprattutto del secondo gol sì forse nel secondo gol si poteva buttare, alcuni commenti, ho letto alcuni commenti di questo tipo ma per me ragazzi la colpa non è la sua, cioè sbattiamo sempre sullo stesso discorso e Onana si ritrova a dover intervenire in situazioni dove non deve intervenire lui ma i difensori cioè sono i difensori che devono anticipare determinate situazioni Masauri, uno dei migliori in campo, sono rimasto nuovamente sorpreso dalla prestazione del marrocchino che si sta dimostrando un affare, forse il migliore per ora di questa sessione estiva del Manchester United questa sessione estiva di calciomercato del Manchester United impressionante, due partite, una meglio di un'altra sicuramente quella col Fulham è stato qualcosina di più, ha dato qualcosina di più perché comunque lo United ha vinto e perché comunque ci siamo portati come ho detto a casa soprattutto la vittoria, però in questo match contro il Brydon ha fatto un assist importante che comunque si è portato al pareggio e si è comportato bene in entrambe le fasi quindi veramente voto 7 e non capisco i difossi dello United che stanno ancora piangendo per Wan-Bissaga in questo momento Masauri sta dimostrando il suo valore quindi non capisco tutta questa polemica sulla gestione di Wan-Bissaga Maguire, mi dispiace, mi dispiace dagli il 4 e mezzo, mi dispiace dagli anche il peggiore in campo sì, per me è stato il peggiore in campo ragazzi perché il primo gol arriva per colpa sua un errore madornale, un errore gigantesco perché non è che lui fa solo un errore sul primo gol lui ne fa due, il primo lascia scorrere il pallone quando avrebbe dovuto buttarla via il secondo che prova di intervenire ma lì c'è il pallone perché si muove in ritardo e si muove male quindi un 4 e mezzo che per me è un voto anche troppo alto per i voti che do io perché solitamente una roba del genere è da 3 però alla fine ha fatto quell'errore ma in generale non è che si sia comportato tanto male mi dispiace perché aveva iniziato bene la stagione, perché aveva concluso la passata bene quindi veramente mi duele il cuore dagli 4 e mezzo però quando un giocatore fa male, fa male punto quindi il 4 e mezzo se lo prende speriamo che non succeda mai più Martinez è voto 5 e mezzo allora io questa cosa l'ho detta anche col Fulham non so se l'ho detta pure in community shield, in finale community shield contro il Manchester City però la ripeto qui, questo che sto vedendo io è sì un giocatore forte, è sì un Lisandro Martinez che può aiutare lo United ma non è il Lisandro Martinez dell'inizio, dell'approdo al Manchester United, del primo anno non è assolutamente quel Lisandro è un giocatore che fa delle fiammate, fa delle giocate difensive interessanti ma non spicca più come prima non fuoriesce più come prima, prima era molto più protagonista siamo a inizio stagione, è rientrato un infortunio, ci stanno mille attenuanti sopra però bisogna anche dire che non è il Lisandro che abbiamo imparato a conoscere noi all'inizio o la Coppa America l'ha un po' stangato, l'ha un po' distrutto però questo ragionamento non c'è senso perché dall'altra parte il suo compagno di reparto Romero sta facendo un inizio di stagione clamoroso quindi anche qui bisognerebbe un attimo porgersi delle domande sulla prestazione di Lisandro perché ovviamente non è stata pessima come quella di Meguayer ma non è il Lisandro che conosciamo noi non è assolutamente il Lisandro che conosciamo noi proseguiamo con Dalovo 2-7 io ho sentito veramente tante critiche nei confronti di Dalovo ma come sapete all'interno di queste pacelle io cerco sempre di contestualizzare cerco sempre di dare il voto andando a guardare tutto quello che c'è intorno io non posso, non posso non prendere in considerazione il fatto che Dalo stia giocando da terzino invertito cioè stia giocando da terzino sinistro essendo che lui è destro e quindi giocando con il suo piede debole cioè bisogna mettere anche in considerazione questo e molte persone non lo fanno e non capisco perché perché c'è un'agenda per determinati giocatori e ce n'è un'altra per altri perché è così che funziona il mondo Manchester United Dalovo è nell'agenda dei giocatori poco simpatici poco apprezzati e quindi si trova sempre lo spicchio la cosa per prenderlo in giro per criticarlo, per massacrarlo io Dalovo mi sento ai tagli 7 perché ha fatto una bellissima partita fuori posizione la colpa non la dovete dare a Dalovo la colpa la dovete dare a chi paghiamo costantemente da più di 4 anni da più di 5 anni prende uno stipendio importantissimo e continua a stare male però quando lo convoca la nazionale inglese si prende e va in nazionale rischiando di farsi male nuovamente rientra dopo la pausa dopo le partite con la nazionale si rifà male di nuovo non ve la dovete prendere con Dalo ve la dovrete prendere con quel giocatore lì che viene tuttora difeso dalla gente perché ha qualità perché è un terzino che ha la gamba che ha tecnica quando io della tecnica non ci faccio nulla se poi non la puoi mettere in campo perché stai sempre all'ospedale perché lo staff medico ti deve sempre curare per qualche problema quindi io Dalo il 7 se lo prende e non mi dispiace è diventato un mio pupillo lo sapete ormai è 3 anni che mi porta avanti sta cosa Dalo sono stato uno dei primi nel mondo United questa me la prendo come merito sono stato uno dei primi a difendere Dalo perché per me Dalo è un giocatore che è uno dei migliori terzini in Premier League se la lotta veramente con pochi il posto del miglior terzino in Premier League e viene abusato a livello mediatico in una maniera imbarazzante quindi si è un mio pupillo che continuerò a difendere soprattutto quando fa partite più che sufficienti quindi il voto 7 se lo prende punto e basta proseguiamo anche perché il primo gol per me la colpa è tutta di Casemiro ci di Casemiro scusate di McGuire ma adesso parliamo di Casemiro voto 5 che devo dire che devo dire di Casemiro parlate voi parlo io parlo io ma è complicato è complicato perché per me Casemiro ha fatto 90 minuti buoni più che buoni e poi al 96esimo fa la stronzata della vita sul calcio d'angolo e qui si è aperto anche un dibattito sul mio profilo Instagram perché ho fatto vedere la clip e molti mi hanno detto che l'errore non era di Casemiro cosa folle perché non dare la colpa a Casemiro è folle cioè non dare non dico che bisogna dare solo la colpa a Casemiro sul primo gol e sul secondo gol che abbiamo subito ma neanche a di che Casemiro non c'entra nulla Casemiro è più del 70% quel gol che abbiamo preso perché se battono cioè vanno in mezzo con il pallone c'è una sorta di confusione la palla ritorna al Brydon che succede che il Brydon poi stava tenendo è difficile anche spiegare la situazione dei campi però praticamente c'era quasi cioè c'era quello del Brydon che voleva grossare perché si vede che si voleva grossare voleva grossare nel mentre che Anthony sfidava il giocatore del Brydon e stava per recuperare la palla che fa Casemiro? Casemiro si sgancia dalla sua posizione va in avanti va sulla linea dell'area di rigore nostra sulla linea proprio fuori e si mette a guardare cioè se voi riguardate l'azione al rallentatore voi vedete Casemiro che esce dall'area di rigore lasciando il suo ma il suo uomo libero se ne va poi si mette sulla linea dell'area di rigore e guarda immobile non è dici che si è levato da quella posizione per andare ad attaccare il portatore di palla no lui si mette in linea a guardare aspettare non lo so un miracolo Gesù Cristo non lo so parte il traversone Casemiro su quella zona del campo non c'è più dopo la colpa bisognerà dall'anca Scott perché comunque sia Scott pure lì c'entra c'entra anche De Ligt ma Casemiro è colui che crea il danno perché se Casemiro fosse stato lì in quella zona se fosse trovato in quella zona di campo lì il Brydon non crossava o se crossava non la prendeva perché era occupata quell'aria e invece no quindi Casemiro voto 5 non gli ho dato di meno perché per me ha fatto una buona prestazione prima di quell'errore ma è nuovo voto 7 ho dovuto rivalutare la sua prestazione perché in generale mi è piaciuto mi sembra un po' tanto ancora confusionario anche lui non ancora al 100% però sì sicuramente è una sofficienza che si merita come se l'è meritata da lui ma sa ho rivovo 7 perché ha dato tanta densità ha dato tanta quantità ha dato tanta qualità ripeto ancora in confusione totale in determinate situazioni tende a perdersse l'uomo dietro però in generale è uno di quelli che per me è stato il miglior a centrocampo è stato il miglior a mani bassissime al centrocampo contro il Brydon quindi il 7 se lo prende tutto ora proseguiamo con Dello qua lo so che scoppierà la guerra perché Dello segna il gol del pareggio ho ricevuto parecchi messaggi del tipo è noiarlo tu non hai cuore perché a Dello è successa quella disgrazia dovresti giustificarlo sì su questo avete ragione cioè in parte avete ragione è successa una cosa che purtroppo nella vita capita perché tutti abbiamo una data in scadenza tutti prima o poi dovremmo lasciare questo mondo terreno purtroppo però la vita è imprevedibile ci sono persone che abbandonano questo mondo prima prima e la cosa più brutta della morte è che non c'è un avviso non è che ti arriva un promemoria ti arriva una notifica sul telefono che ti scrive che ne so domani te ne andrai e quindi tu hai anche il tempo di salutare le persone no alcune volte succede che dall'oggi al domani domani una persona non c'è più e questo è un dolore enorme è un dolore che io ho provato quando ho letto questa cosa nel senso che non posso sapere come lui stia penso malissimo sono sicuro che sta malissimo ma comprendo che stia soffrendo ma allo stesso tempo non immischiamo queste due cose che sono totalmente diverse questo è un lavoro se tu non stai bene non giochi è uscita fuori la notizia che lui ha detto all'allenatore che voleva giocare e in parte si è voluto giocare ha segnato quindi alla fine tutte queste grandi polemiche le possiamo fare fino a un certo punto però fa una prestazione brutta e questa prestazione brutta lui l'ha fatta anche col Fulham non è che col Brydon ha fatto schifo per quel motivo lì lui ha fatto schifo anche col Fulham ha fatto la stessa identica prestazione cioè il giocatore che prende la palla punta non ce la fa saltare l'avversario e torna indietro è costantemente fa sempre quello l'ha fatto col Fulham e lo stava facendo col Brydon gli è andata bene con il Brydon perché Masauri l'ha imbucato e lui ha trovato campo aperto perché il Brydon stava troppo alto se no il gol non lo trovava perché ha cercato costantemente di dribblare di andare nell'uno contro uno non riusciva a saltare l'avversario e tornava indietro quindi è una costante questa non è una situazione che si è creata perché lui all'esterno ha subito un qualcosa ripeto di gravissimo e e di brutto che mi ci dispiace a morire e che gli do le condugianze e che ripeto mi dispiace tanto però è proprio un difetto che lui ha e l'ha fatto vedere pure col Fulham quindi io mi auguro con tutto il cuore che questi commenti che io ricevo senza senso come a me mi fanno passata subumano come persona che non comprende il dolore come persona che esacira no non è così anzi io qui la colpa la do più a Tenag che a Diallo perché se tu l'allenatore ha anche il compito in alcune situazioni soprattutto con giocatori così giovani di fare un po' il padre cioè tu devi comprendere che anche se il giocatore ti dice io voglio giocare lo vedi che psicologicamente non sta bene quello si era un puntato che voleva segnare col Brydon soprattutto si era un puntato che voleva segnare voleva segnare voleva segnare e quindi ha rovinato 45 minuti sulla zona di destra e se tu sei un allenatore consono se tu sei un allenatore un po' cioè come posso dire che capisci cioè lo capisci io credo che lo capisci perché non è che lo vede una horda al giorno lo vede una horda al mese cioè questi i giocatori l'allenatore li vede tutti i giorni in un sacco di ore quindi so veramente come padre e figlio non comprendere non capire che un giocatore sta male e che deve sta in panchina o non deve essere proprio convocato è grave grave per me comunque fa il gol voto 6 e mezzo se non era per il gol era il peggioro in campo ma un voto 6 a me sinceramente non è dispiaciuto non mi ha fatto manco impazzisi cioè ha detta proprio ve la dico in maniera molto schietta non mi ha fatto ne impazzisi ma non mi dispiace nemmeno è quel giocatore che ti dà tanto densità poi davanti a porta sbaglia deve sbloccarsi io credo che ha bisogno di un gol fortunato una deviazione un qualcosa che porti a segnare un gol così che si sblocca definitivamente anche lui sta vivendo nell'oblio dei media e ha bisogno di uscire da questa situazione facendo un gol il problema è che i tentativi li ha avuti sia col Fulham che col Brydon ma se li mangia non gli si può fare niente quindi Mount voto 6 Rashford voto 5 io spendo poche parole per Rashford pessimo opproprioso l'unica cosa che mi è piaciuta è quei due o tre scatti che ha fatto indietro nel primo tempo poi completamente scialpo e insaporito proprio niente Bruno Fernandes uno dei peggiori ero molto 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 indeciso tra dare il peggiori in campo Meguayer o Bruno proprio per questo prima ho detto peggiori in campo Meguayer non lo so perché raga Bruno per me ha fatto veramente schifo ha fatto veramente cagare infatti non comprendo neanche il sostituito cioè l'errore della sostituzione non è perché fa usci Bruno perché fa entrare Scott per Bruno quello è l'errore non è aver fatto uscire Bruno che ha fatto cagare Bruno ha fatto cagare ragazzi Bruno è stato veramente impalpabile ha sbagliato una marea di situazioni di campo anche col Fulham però col Fulham ripeto hai vinto e quindi quelle occasioni che tu hai creato che hai costruito alla fine divengono positive invece col Brydon ha sbagliato tanto non a livello di occasioni ma proprio a livello di fraseggio si è messo a fare delle giocate senza senso cioè proprio nella live reaction è lui che prova a fare un passaggio d'esterno inutile perché tanto si capiva che quel pallone non ci sarebbe mai arrivato al compagno e lui lo fa lo stesso fa un passaggio d'esterno inutile e da lì prendiamo il pallone parte il contropiede è un casino quindi il 4 e mezzo per me c'è stato tutto ho dato a McGuire il peggiore in campo perché è stata la causa dell'1-0 proseguiamo adesso con i panchinari ve li metto tutti in fila Garnaccio 5 e mezzo Zirziè 5 e mezzo sono tutti e due il voto basso perché tra le persone che mi dicono è colpa di Garnaccio perché io so del parere che Garnaccio che sbaglia sul gol annullato per fuoricioco c'è poi chi dice che è colpa di Zirziè non riesco a comprendere questa cosa ma per fare in guti nel martello 5 e mezzo a Garnaccio e 5 e mezzo a Zirziè perché un fuoricioco del genere non si può vedere non si può vedere un fuoricioco del genere quindi insufficienza si va prendendo Delict insufficienza perché sul secondo gol che abbiamo preso ci rientra pure lui Scott alla fine io ho voluto da 6 perché per me Tenaga l'ha fatto entrare per l'addio l'ha fatto entrare per salutare il problema è che non ha né salutato e né ha fatto benissimo però il 6 glielo voglio dare perché è l'ultima partita che giocherà con la Maglielo United e Tenaga chiudiamo con voto 5 che vedevo di che vedevo di allora cambi totalmente sbagliati ripeto non è sbagliato aver sostituito Bruno non è stato un errore l'errore è arrivato nel momento in cui tu sostituisci Bruno Fernandes per mettere dentro Scott quello è un errore che non puoi fare Scott entra per un altro no che fai uscire Bruno per Scott ci avevi bisogno di un giocatore che potesse far male davanti metti Scott che Porcozzino fa un passaggio filtrante noi sappiamo qual è il problema del ragazzo lo sappiamo che non sa fare passaggi questo che a me mi fa ingazzare Tenaga che sembra che c'è sta squadra da una settimana è questo che mi sta facendo dubitare dubitare del lavoro di quest'uomo e ve lo sta dicendo un ragazzo di 25 anni che ha come copertina come cover no copertina come cover del telefono del primo telefono Tenaga con la F-Cup e come no qui ho cambiato il mio sfondo sull'altro telefono cioè vi rendete conto ve lo sta dicendo un uomo che ha la cover di Tenaga pagata non tanto però pagata cioè vi sto dicendo che io non riesco in alcune situazioni a comprenderlo perché fa delle scelte come se lui avesse la squadra da una settimana cioè tu sai che Scott è quel giocatore non me poi sostituì Bruno con Scott non me poi mette Zirzè nel secondo tempo ma che senso ha la motivazione la scusante la cosa che ha portato Zirzè a giocare solo quanto 40 minuti e non è ancora pronto fisicamente non è ma a chi stiamo a prendere per il culo che non ha giocato manco l'europeo non l'ha giocato mai c'è Romero c'è Lisandro che giocano costantemente tutte le partite e sono arrivati in finale da titolare in Copa America ma di chi stiamo a parlare ma che è sti presi per il culo ma questi sono presi per il culo sono presi per il culo perché Zirzè se non te può fare se te può fare 40 minuti ma te ne potrà fare 60 no ma fallo entrare dal primo minuto e poi lo fai uscire al settantesimo non la comprendo sta cosa si è messo adesso sta fissazione di giocare senza punte e tu la partita la perdi si per le scelte sbagliate dei giocatori sull'ultimo terzo di campo ma la perdi soprattutto perché tu nei primi 45 minuti hai giocato senza attaccanti tu nei primi 45 minuti hai giocato senza un numero 9 non c'era nessuno in mezzo e quindi quando andavi a attaccare quando bisognava fare il passaggio non c'era un'anima in mezzo da fastidio ai difensori l'hai persa anche per quello scelte folli folli che non porteranno a nulla perché sta roba qui poi dovrà cambiare questo sistema si dovrà evolvere quando rientrerà Oilund dall'infortunio perché dove lo metti Oilund dove lo fai giocare in quel sistema lì che veramente veramente mi devo vedere Oilund a centro campo e lì è il momento dopo che veramente spacco tutto non c'è veramente senso io ho dato 5 solo perché come ho detto le scelte dei giocatori hanno compromesso anche le scelte i giocatori hanno compromesso la partita ma se sto match finì a 1-1 e Radatà Tenag voto 4 3 2 1 perché sembra veramente che ha questa squadra da una settimana e mi fa dubitare mi fa dubitare perché vedo alcuni miglioramenti in alcune situazioni e dei peggioramenti o delle cose brutte che ormai da 3 anni che ci portiamo dietro ragazzi siamo arrivati a 6 partite dall'era Tenag 6 partite dobbiamo gol oltre al novantesimo 6 partite 6 partite prima di Tenag non mi ricordo con Sir Alex Edward è successo in in io non è che sto qui a paragonare Sir Alex ma cioè Tenag sono 3 anni e sono 6 partite che piamo gol oltre il novantesimo c'è un problema ma non lo sistema non c'è qualcosa che non funziona nella testa dei giocatori ma non viene sistemata questa cosa perché continuano a succedere queste cose non ho nient'altro a dire io vi ringrazio per la visione fatemi sapere la vostra e alla prossima gente e alla prossima gente a dire